Equilibri capovolti, il vascello su cui viaggiava spedito, il Bari continua ad imbarcare acqua e la zattera su cui si ritrovano frattali e compagni è solo un mezzo di fortuna. Ora a dividere i biancorossi dalla terra promessa in pieno ma riaperto ci sono gli squali. La sconfitta inaspettata contro il campo basso infatti ha riaperto i giochi in vetta e adesso che il Catanzaro ha imparato a sentire l'odore del sangue con la truppa dell'ex Vivarini a meno 4 dopo il successo sul Taranto i piani in casa biancorossa sembrano essersi complicati ulteriormente. Il dato più preoccupante però è quello legato ai match interni. Il Bari sembra avere dei problemi col fattore campo. Dei 55 punti raccolti finora gli uomini di Mignani ne hanno portati a casa più in trasferta 28 che tra le mura amiche 27 una tendenza confermata anche dagli ultimi impegni al San Nicola un solo punto tra Catania Messina e Campobasso servirà dunque invertire la rotta già a partire da domani contro il Picerno. I successi su Palermo e Monopoli invece hanno permesso al Foggia di risalire la china e hissarsi nuovamente in piena zona playoff. All'orizzonte c'è la sfida con la Torres, classica prova del 9 prima del derby contro il Bari. La trasferta di Messina nasconde più di qualche insidia per il Monopoli che nell'ultimo periodo è sembrato scarico sia dal punto di vista fisico che mentale mentre a chiudere il quadro delle pugliesi nel recupero della 22esima giornata il derby tra Virtus Francavilla e Fidelisandria in palio ci sono punti importanti per i rispettivi obiettivi.